Nell'ultima gara tra le mura amiche, la metternina non riesce a salutare il proprio pubblico con una vittoria. I giallorossi già retrocessi in eccellenza vengono sconfitti dal Castelfidardo per 2 a 1 che continua così a sperare di conquistare la salvezza diretta senza passare per i play-out. I ragazzi di Mister Candido di Felice provano in tutti i modi a conquistare un successo, ma i marchigiani possono contare su un organico più esperto e quindi riescono ad ottenere i tre punti importanti per la loro classifica. Va ricordato ancora una volta che la metternina si è presentata con ben otto assenze tra infortunati e chi ha deciso di abbandonare già la squadra. Per la cronaca, il Castelfidardo si porta subito in vantaggio al settimo con una disattenzione in difesa. Trillini verticalizza il centro con Balloni che entra in area e trafigge l'incolpevole di Vincenzo. La reazione della mitternina arriva al diciottesimo con un tiro dal limite di Marco Tuglio che sorvola la traversa. Dopo due minuti è la volta di Terriaca che mette in mezzo all'area bianco-verde ma Schiple spreca tirando alto. Al quarantatresimo si vede il Castelfidardo con Gans che sul lato sinistro crossa il centro, ma Liberati svirgola la palla. Proprio al minuto di recupero i marchigiani raddoppiano, Liberati scodella in area per un colpo di testa vincente di Trillini. Nella ripresa il Castelfidardo potrebbe realizzare la terza rete al terzo minuto, però Ganci sfiora il palo su punizione. Bella azione dei padroni di casa al settimo, un passaggio filtrante di Schiple per Terriaca che tira debolmente e Chiodini può parare facilmente. Al ventisesimo gli ospiti rimangono in dieci, dato che Bellelli si fa espellere per un fallo di reazione su Schiple. Il Castelfidardo si difende con ordine, con la Miternina che accorcia le distanze grazie a un magistrale tiro su punizione di D'Alessandris al trentottesimo. A fine gara si mettono in evidenza negativa i tifosi ospiti. Dopo le proteste per il rosso a Bellelli hanno provocato danni alla panchina della Miternina, spaccando la protezione. Ci siamo fatti prendere dall'ansia, dal nervosismo e non abbiamo fatto una buona partita, però comunque ci servivano i tre punti, sono arrivati, quindi dobbiamo pensare già alla prossima. Vedere i ragazzi danno tutto, questo mi fa piacere. I ragazzi si impegnano tutta la settimana e la domenica cercano di dare il massimo. Oggi stanno un po' ingavolati, stanno perché alla fine uno si allena per cercare di ottenere dei risultati. Poi ci si mette pure qualcuno, ci si mette e alla fine vuol dire che è una nata proprio così storta. Siamo molto dispiaciuti di quando è accaduto, però il fatto che la Miternina potesse retrocedere era nell'aria perché anche l'anno scorso dopo 120 minuti ci eravamo salvati. Quando accadono queste cose bisogna dire che non si può sempre dare la colpa alla società. La società ha fatto quello che ha potuto, ha fatto delle scelte, forse ha sbagliato in un modo di riconoscenza verso quegli atleti che gli anni passati avevano dato tutto. E poi ci sono le responsabilità anche dell'area tecnica che ha condiviso con la società le proprie scelte. Certo, scelte limitate alle nostre risorse che abbiamo. E poi ci sono i calciatori che forse hanno dato qualcosa di meno di quello che ci si aspettava. Certo è che per quanto riguarda le gare che abbiamo disputato, il valore della nostra squadra non rispecchia la classifica perché noi abbiamo perso sempre per un gol di scarto, non abbiamo mai avuto episodi a favore. Anche oggi avete visto che hanno lottato fino all'ultimo minuto facendo innervosire gli avversari. La mitternina è questa. Il nostro ruolo, la nostra identità nel territorio è quello di un riferimento per le famiglie e per i ragazzi. Siamo orgogliosi e fieri di avere una juniors che ce l'hanno tutti, una squadra allievi regionale, una provinciale, giovanissimi regionali, giovanissimi provinciali e una squadra esordienti. Vuol dire che faremo tesoro degli errori che abbiamo fatto e vediamo se è il caso di avanzare una domanda per un eventuale ripescaggio. Ma dietro questa domanda ci devono essere le forze, gli operatori economici di questo territorio che fino ad oggi ci hanno molto penalizzato. C'è anche qualcosa di positivo in questa stagione? Di positivo è molto importante aver tenuto in ordine il bilancio perché società come la mitternina, e ce ne sono tante, se si portano dietro dei debiti che sono fisiologici in una squadra, dopo tre anni mettono in dubbio la continuità della società. Noi questo l'abbiamo fatto. In più il fatto positivo di essere stati in una certa condizione ci ha dato modo di mettere in evidenza tanti ragazzi che forse se avessimo dovuto lottare per non retrocedere non sarebbero scesi in campo e questa è la cosa positiva. Altrettanto positiva è che la società della mitternina è formata da otto dirigenti i quali, oltre a fare i dirigenti, fanno i dipendenti della società stessa. Ognuno ha un ruolo. Questa è la forza della mitternina.